Amici, amici, ben ritrovati e ben ritrovati. Non lo faccio mai, perché non mi piace guardare in casa degli altri e non mi piace quando gli altri guardano in casa mia, magari anche sdottorando. Però oggi consentitemi questo strappo alla regola, perché la notizia, ormai passaggio imminente, di Sandro Tonari dal Milan Newcastle, secondo me, ci obbliga a una riflessione. Per ci obbliga, intendo come sistema calcio Italia, come uso e costumi nostrani, come gap che appare ormai incolmabile con la Premier League. Per me non voglio parlare in questo video di tecnicismi, perché su Google possiamo trovare tutti quali siano i ricavi della Premier, come in questo momento se parliamo di questo campionato parliamo di quello più blasonato al mondo. Ancora per poco, perché mi sembra che in Arabia Saudita abbiano iniziato a fare sul serio e quindi se iniziano a fare sul serio loro c'è davvero da preoccuparsi, considerando le risorse praticamente infinite a disposizione. Però oggi posso anche intuire come si sente un tifoso del Milan, perché Tonari ha 23 anni, ha fatto un certo tipo di percorso che l'ha portato dal Brescia al Milan. Primo anno difficile, qualche riflessione dello stesso Milan, circa puntare o meno su questo ragazzo, che per facilitare la sua permanenza a Milanello effettua delle mosse. Spinge tanto, 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 si mette anche a disposizione per abbassarsi l'ingaggio e poi tutto ciò viene premiato con un cammino bellissimo, quello legato alla passata stagione, che ha portato i rossoneri sul tetto d'Italia. Tonari è patrimonio anche della nazionale, bisogna sperare fortemente che poi possa, anche con la casacca azzurra, emulare le gesta che ha proposto con quella rossonero. Ma il fatto che un giocatore giovane, classe 2000, sei giovane, poi hai esperienza ma sei giovane, dal punto di vista componente della grafica, in auge, magari anche con margini di crescita, venga portato via così dal mio casto, a me spiace. E ribadisco, non seguo il Milan professionalmente, non tifo il Milan, quindi è un discorso davvero da super partes. Ma questa facilità di spesa della Premier in generale, del Newcastle, che basti vedere poi la proprietà, davvero mi fa pensare, mi fa pensare tanto e mi terrorizza ulteriormente. Perché noi abbiamo capito, per tot anni, e chissà quanti saranno questi anni, noi non tocchiamo palla, noi Serie A. Cioè, mi fa ridere quando il nome di un club italiano, Juventus, Inter, Mila, Roma, Napoli, la squadra, decidetela voi, viene accostato, magari viene associato al pressing sul mercato di un inglese. Ma qualunque questa sia. Cioè, se parliamo anche di relegation zone, se parliamo anche di squadre che si sono salvate e che magari non hanno tradizione. In questo momento la Premier è la Premier. Per un giocatore, credo che sia un sogno giocare lì, è per loro investire su più standard, parametrando poi il concetto e i vari obiettivi. C'è chi deve vincere la Premier e può spendere e spandere, c'è chi non deve vincere la Premier ma spende e spande lo stesso. E il Newcastle è vero che ha fatto un percorso di livello, è vero che ha una proprietà incredibile, è vero che giocherà la prossima edizione della Champions, ma che con questa facilità i Magpies si presentino a Milano e portino via tonali. Poi vediamo le cifre, ma si parla di 70-80 milioni. Ci deve far riflettere, poi tra l'altro ieri è circolata anche la voce di un Tottenham sempre più caldo che starebbe per prendere Vicario e il portiere dell'Empoli per 20 milioni. E chissà quante altre notizie arriveranno di questo genere. Per cui quando io, proprio alle battute iniziali di questa sessione di mercato, che tecnicamente deve ancora aprire, vi dicevo, vi ho fatto un quadro realistico, in base alle informazioni in mio possesso, che poi possono essere sbagliate le volte, ma le volte possono essere anche giuste. In questo caso credo che siano giuste. Quando vi ho detto, la Juve senza Champions deve fare ossigeno per i conti, sull'ordine di 120-130 milioni, e dunque bisogna far funzionare le idee. E questo è, perché non si può competere con questo mondo, non competeremo chissà per quanto. Quindi bisogna essere lucidi, tempestivi, lungimiranti e coraggiosi. Perché il mio castle di turno può arrivare domani a Torino, presentare un'offerta per Vlaovic, presentare un'offerta per Chiesa, presentare un'offerta per Fagioli, presentare un'offerta per Bremer. E te li porta via questi calciatori. Te li porta via. A meno che, poi, il calciatore coinvolto non decida di fare un gesto estremo, che è quello di rimanere nel club di appartenenza. Ma è veramente un gesto estremo, perché leggevo che la proposta Tonali sia il doppio, praticamente il doppio dell'attuale stipendio. Credo che lui percepisca più o meno 3 milioni e mezzo netti. arrivano e ti dicono, te ne diamo 7 per 5 anni, più bonus, che magari un bonus è un milione al primo starnuto. Un altro milione e mezzo, se riesce a camminare, fare due metri. Cioè, ragazzi, la situazione è davvero critica. È davvero critica, impone una riflessione. Ma non mia, che non conto niente, e nemmeno la vostra, che vale più o meno la mia. Magari può essere più illuminata la vostra. Ma io intendo come sistema calciitario. Perché questi segnali sono pessimi. Sono pessimi e io ho la sensazione che questo sia solamente l'inizio. Non riesco a fargli una colpa al giocatore, perché ti raddoppiano lo stipendio così. Quindi, è chiaro che se avessi sentito Tonali va al City, Tonali va al Liverpool, Tonali va al Man United, da lì avrei potuto capire. Ma il Newcastle, il Newcastle che riesce così, con facilità, forte, ribadisco, di una proprietà che si può comprare praticamente il mondo, che viene con questa facilità in Italia, mette sul piatto 70 milioni, raddoppia l'ingaggio al calciatore, tanti saluti, è un gesto che ci deve far riflettere. È un gesto che ci deve far riflettere. Per il resto, vediamo cosa scatenerà questa cessione, perché adesso il Milan, con i soldi in mano, è lecito pensare che possa andare in casa del Sassuolo e fare una proposta per frattesi. Ieri abbiamo visto questo incontro tra Juve e Sassuolo a Milano, ma da quello che mi risulta, da quello che ho scritto sia su Google sia sui miei social, è stato un incontro interlocutorio. Probabilmente la Juve ha avvertito che stesse accadendo qualcosa ieri con Tonali. ormai in direzione Newcastle e quindi ha provato a capire anche le intenzioni dello stesso Sassuolo, che sono molto chiare, vendere a colui che ti offre più soldi ed è giusto anche che sia così. E ora il Milan, a differenza della Juve, che comunque attende una risposta sempre da Adrien Rabiot, siamo al 22 di giugno e questa risposta prima o poi arriverà. Anche l'Inter, che è stata data dai più, anche in vantaggio sulla Juve per prendere frattesi, però anche l'Inter deve fare un po' di casa, si parla probabilmente di Brozovic che potrebbe andare via. Insomma, questo è. Prometto che ora non guarderò più in casa degli altri, che mi concentrerò sulle dinamiche juventine, perché è giusto che sia così, ma questa mega notizia, secondo me, merita di essere analizzata da me, da voi, da tutti, ma soprattutto da coloro che poi decino le sorti del nostro calcio, sempre più in declino.